Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Sia lodato Gesù Cristo, alleluia, alleluia, sempre sia lodato, alleluia, alleluia. Eccoci giunti alla domenica di Pasqua, 12 aprile 2020, e anche oggi, Signore, con nostra sorpresa, somma, ci ha donato un sole meraviglioso, bellissimo, un'alba rossa stupenda, con la nostra bella amata terra, la nostra amata Lombardia, che si sta svegliando in questo giorno di Pasqua, si sta svegliando in Cristo. Ancora vedo, vedo perché lo capisco dal silenzio che c'è, tutti dormono, tutti riposano, tutti stanno nascosti, speriamo, con Cristo in Dio, come dice San Paolo. E intanto però la natura si muove, gli uccellini cantano, tutta la natura si sveglia, è questo bel sole, questo cielo completamente limpido, sembra di essere in alta montagna o in riva al mare, in quei bei mari assolati d'estate, azzurri, con quel cielo azzurro che non c'è una nuvola neanche a pagarla, a cercarla. Stupendo, questa giornata meravigliosa, dobbiamo proprio dirlo, ringraziare il Signore che ci dona una Pasqua bella, bella, con un cielo bello, con una natura bella, con il creato che Lui ha fatto bello, con il terreno che riposa, accogliendo i semi appena posti in esso. E quest'oggi, domenica di Pasqua, noi siamo tanto grati a Dio, siamo tanto grati a Dio, a Dio Padre, per questo miracolo meraviglioso della risurrezione di Gesù, che è la nostra speranza, che è il nostro senso, che è la nostra vita, che è la nostra gioia, che è la nostra bellezza, è quella gioia che ci fa esplodere il cuore anche sotto il peso della croce, anche sotto il peso della fatica, anche sotto il peso delle privazioni, anche sotto qualunque peso. Noi oggi siamo gioiosi, noi oggi siamo felici, dobbiamo resistere, opporci a tutto ciò che vuole in qualche modo contaminare la bellezza di questa gioia. E oggi dobbiamo pregare in modo speciale per il nostro governo italiano, per tutto il nostro governo italiano, dobbiamo pregare in modo speciale perché certamente ha lacerato il cuore di ogni cittadino vedere questa frattura, questa separazione, questa opposizione dell'uno contro l'altro, questa divisione che si è venuta a creare nelle ultime ore. Guardate, mi sembra di dover dire che è più grave questo che il virus, certamente mi sembra che sia più grave questo che il virus. Come vi dicevo il virus ha fatto venire fuori anche il peggio di noi purtroppo, ha svelato tante cose. È difficile, sapete, è difficile mantenere viva la gioia, è difficile mantenere viva la vita, è difficile mantenere viva l'unità, è difficile mantenere viva la pace, è un'opera di collaborazione di tutti ed è difficile, è difficile perché basta fare entrare un frammento di ingiustizia, un frammento di falsità, di menzogna, di incoerenza, di tutto quello che volete e subito questo edificio così meraviglioso, così bello, così ordinato comincia a tremare, comincia a essere distrutto dai lampi e dai terremoti. E dobbiamo pregare tanto perché questo non avvenga, finisca presto, la smettano velocemente di fare queste cose che sono un pessimo esempio per la nazione e noi dobbiamo imparare ad essere alla nostra volta, nel nostro piccolo, questi cercatori della gioia, questi cercatori della bellezza, dell'unità nelle nostre famiglie, nelle nostre amicizie, ovunque noi siamo. Dobbiamo proprio portare questa Pasqua di resurrezione. cercando in ogni modo di seguire Gesù, ecco, di seguire Gesù. È difficile, è difficile perché capite quando ci scontriamo poi con l'ingiustizia la gioia viene messa a dura prova, con la malattia, con la sofferenza, con tante cose sbagliate che ci sono. Però non dobbiamo mai cedere, mai cedere allo sfogo, mai cedere allo sconforto, mai cedere al partitismo, io sto a sinistra, a destra, sopra, sotto, di là, di qua. A noi non interessano queste cose. Noi stiamo nascosti con Cristo in Dio, questo è il nostro luogo. Ecco, il nostro topos è Dio, Gesù è il nostro topos. Noi stiamo in quel luogo lì. Tutto il resto sono cose che noi non ci interessano, che dobbiamo proprio fare un passo oltre. E questo in tutto, in tutti gli amici della nostra vita. Non facciamoci mai tirare dentro nelle disquisizioni becere, negli affanni della vita, che non è che sono affanni perché sono materiali, no, sono affanni perché sono gestiti male. Anche questa erbetta che vedo qui ai miei piedi, vedete, non è un affanno, è bellissima. Ogni erbetta che vedo qui, che prima ritenevo essere infestante, adesso mi sembrano belle anche le piante infestanti, ogni erbetta, vedete, ha il suo ordine, il suo perché e sanno stare insieme, erbette diverse. Interessante, no, questa cosa? C'è il trifoglio, c'è quell'altra che non so come si chiama, c'è la borsa del pastore, questa la conosco, insomma, tutte diverse, no? C'è lo stoppione, ci sono tante erbette e ognuno cresce accanto all'altra, no? Interessante, col suo ordine, seguendo la sua, come dire, il suo fine e rispettandosi. Vedo che si rispettano, sono, non è che uno va addosso all'altra, no? C'è anche il dente di leone, ognuno ha il suo modo, ha il suo stile. Impariamo anche noi a rispettare gli stili altrui. È bello, no? Vedere quest'erba campestre così diversa che colora, che colora la terra, la nuda terra. E questo possiamo farlo solo se cerchiamo le cose di lassù, ecco. Noi dobbiamo sempre chiederci, soprattutto quando iniziano a sentirsi nel cuore i germi della concupiscenza, i germi della carne, no? Dobbiamo sempre chiederci, ma io che cosa sto cercando? Ecco, quando qualcuno ci viene incontro, no? Fa polemica, non so, è nervoso, rabbioso, ci insulta, ci dice qualsiasi cosa, no? Vedete, che cosa succede? Succede, si applica costantemente anche nelle cose dello spirito la terza legge del moto, no? Questa me la ricordo dalle superiori, la terza legge del moto. Ad ogni azione corrisponde un'azione uguale e contraria. Ma non possiamo vivere nello spirito, capite? Questo può avere la sua ragione d'essere nella materia, no? La terza legge del moto vale per la materia ed è giusto che valga per la materia, ma non per lo spirito. Noi non possiamo agire in base alla terza legge del moto. Ad ogni azione corrisponde un'azione uguale e contraria. Noi non dobbiamo mai reagire, noi dobbiamo agire. Quindi quando qualcuno ci attacca, ci insulta, ci calugna, qualunque cosa succeda, no? È sbagliato, è mondano, è carnale, è fallimentare entrare nella polemica, è fallimentare reagire, è fallimentare dire, tizio dice, tu hai fatto questo e io rispondo, no, però tu hai fatto quello, quello e quell'altro, no, però tu... e non si capisce niente. Dalla polemica non si capisce chi ha ragione, perché non viene emergere, non si va a cercare la verità, ma si va a cercare a far emergere il proprio io. E allora è un pasticcio. Non si capisce niente, non si ottiene. Se invece, non si ottiene giustizia, se invece io, quando vengo attaccato, insultato, tutto quello che volete, no, facessi quello che c'è scritto qui di San Paolo, no? Cercate le cose di lassù. Ecco, io dicessi, ma cos'è che stai cercando facendo questo? Ecco, tu cosa stai cercando? Dicendo queste cose, facendo questi atti, tu cosa stai cercando? Io, dicendo quello che dico, facendo quello che faccio, che cosa sto cercando? Io lo so, in questo momento, mentre sto parlando, mentre sto predicando, io so cosa sto cercando. Poi questa res che sto cercando la manifesto, la dico in tanti modi, ma è una cosa sola che sto cercando. Io lo so benissimo, è una cosa sola. Che poi, come un fiume, poi prende tutti i suoi affluenti, poi si manifesta in svariati modi, ma che cosa... Se uno mi dicesse, dopo il tempo che io parlo, uno dicesse, ma padre Giorgio, cos'è che stai cercando? Con tutto quello che tu hai detto, cosa stai cercando? E questa è la domanda difficilissima alla quale noi dobbiamo cercare risposta. Quindi quando qualcuno ci attacca, ci sgrida, ci polemizza, ci... qualunque cosa, no? Ci scaraventa addosso il suo sfogo. Noi dovremmo girarci e invece che fare lo stesso a nostra volta, terza legge del moto, invece che anche noi cedere alla parte più bassa dell'essere umano, noi dovremmo guardare e dire, ascoltare in silenzio tutto quello che è stato detto, no? E poi dire, ma cos'è che stai cercando? Con tutto quello che tu hai detto, mi puoi far capire cosa stai cercando? Lasciamo perdere le cose che hai detto, ma dimmi in sintesi, no? Tu cosa stai cercando con queste cose che dici? Con quello che stai dicendo e con il modo che stai usando, mi puoi dire cosa stai cercando? Perché voi vedrete che spesse volte, spesse volte, alcune volte, non lo so, quello che noi cerchiamo è diverso dai modi con i quali lo diciamo o con i quali lo cerchiamo e i modi, la forma e i contenuti che noi mettiamo nella forma alle volte tradiscono tristemente la ragione della nostra ricerca. Per cui noi abbiamo, ho fatto proprio pochi giorni fa questo esempio a un ragazzo che mi chiamava tutto ambasciato, tutto sofferente, perché suo padre l'aveva, l'aveva, insomma, sgridato, perché quella cosa non andava fatta così, perché quell'altra cosa non andava fatta cosà, perché non si è capace di fare questo, perché non si è capace di fare quell'altro, perché io voglio vedere, perché io voglio sapere, e va bene. E allora appunto mi chiama e mi dice adesso io cosa faccio, padre Giorgio, guarda io farei così, adesso vado là e gliele dico tutte e adesso io reagisco e mi ribello e gli faccio capire che è tutto sbagliato, che non va bene fare così. E io gli ho detto, non so se ho sbagliato, poi questo lo direte voi, ma... e io gli ho detto, guarda, se tu fai così, a mio giudizio tu non solo non ottieni niente, ma ottieni ancora peggio di quello che tu vorresti, di quello che tu stai cercando. Io invece se fossi in te mi sforzerai di capire che cosa con questi contenuti, cioè quello che ti ha detto e i modi che ha usato, che cosa il tuo papà sta cercando, che cos'è che veramente vuole. E allora gli ho detto, guarda, secondo me sai cosa vuole? Secondo me lui vuole che tu lo coinvolga, che tu vada là e gli dica, guarda papà, io ho pensato, devo fare questa cosa, intendo di fare questa cosa. Senti, ma secondo te è meglio farla così o così? Senti, ma perché non vieni anche tu? Vieni anche tu a vedermi, a guardarmi, ad aiutarmi, a fare questa cosa? Senti, vieni anche tu, coinvolgilo gli ho detto, coinvolgilo, perché secondo me, secondo me tutto quello che ti ha detto e il modo in cui l'ha detto ha una sola ragione, che non c'entra niente, né con la forma né con i contenuti. E la ragione è questa, lui si sente escluso, lui si sente messo da parte, o anche se tu non lo vuoi mettere da parte, lui di fatto lo sente e desidera fortemente, siccome è un po' anziano, desidera fortemente sentirsi vivo, sentirsi utile, desidera sentirsi utile, desidera vedere che ha ancora un ruolo paterno nei tuoi riguardi. E il fatto di vedere che tu invece le cose le fai da solo, sei capace, ti muovi qui là, sai, ci vuole una grande libertà interiore per accettare di passare in seconda fila, quindi non è che si può pretendere in tutti. E allora ho detto, tu prova a fare così, vai lì e lo coinvolgi, gli chiedi, ma dopo, e dopo se veramente accetta che viene? Ebbene, bene, se veramente accetta che viene, non vederlo come un peso, ma vedilo come una presenza, insomma, a fin dei conti è una persona onesta, è una brava persona, mica un criminale, cioè, va bene. E insomma alla fine si è convinto, è andato, ha fatto così, gli ha chiesto allora così, cos'ha, come vi ho detto, mi ha richiamato dopo una mezz'oretta e mi dice, padre Giorgio, sì, guarda, dovevi vederlo, proprio si è smollato, si è sciolto, è cambiato tutto, il modo in cui mi parlava, è diventato dolcissimo, anche gli sguardi sono cambiati, e poi mi ha detto, no, ma io non verrò, non voglio disturbare, no, pensate, no, ma io non voglio disturbare, però, però ci teneva, no, però lo desiderava, però, 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 e io gli ho detto, vedi, San Carlo, no, San Carlo che era figlio spirituale di San Filippo Neri, all'inizio del suo episcopato fu, si ritrovò col suo padre spirituale che era San Filippo Neri e San Filippo Neri, mentre San Carlo faceva tutte le sue disquisizioni teologiche, gli parlavano, sapete che ha partecipato con Giorgio Trento, insomma, tutte queste cose qua, e San Carlo, scusate, San Filippo Neri lo ha portato a parlare in una sorta di parco, dove c'era una bella fontana piena di pesci, no, e San Filippo Neri aveva in mano un bastone, ed era lì, perché poi era anche anziano, ed era lì che lo ascoltava, come fa un bravo padre spirituale, e a un certo punto tira fuori dalla sua tasca, perché nelle tasche di San Filippo Neri c'è dentro sempre il mondo, no, c'era sempre dentro di tutto, di tutto, sembrava un po' la borsa di Mary Poppins, questo non è, voglio essere offensivo verso San Filippo Neri, no, ma per intenderci, c'era dentro proprio di tutto, e quindi San Filippo Neri tira fuori una manciata di pane e lancia, e lo dà a San Carlo, e gli dice, Carlo butta un po' di pane e pesciolini, e allora San Carlo, mentre sta parlando, prende il pane, lo butta ai pesciolini, e tutti i pesciolini che arrivano, no, a mangiare questo pane, così, e San Carlo lo guarda, gli piace, no, questa cosa, e allora sta ancora parlando, prende un'altra manciata di pane, lo butta ai pesciolini, e in quell'istante San Filippo Neri di colpo prende il bastone e tira una bastonata solenne sull'acqua contro i pesci, no, proprio una bastonata potentissima, e tutti i pesci schizzano via lontanissimi, e San Carlo si spaventa, fa un salto inietro e dice, ma padre, ma cosa ha fatto, ma cosa sta facendo, ma perché, ma non vedi che sono scappati via tutti, e San Filippo Neri lo guarda e gli dice, io sto facendo quello che fai tu, io l'ho fatto con i pesci, tu lo fai con le persone, ricordati Carlo, che ottieni di più con una mollica di pane, con un pochino di miele, che non con una bastonata, e allora io questo ragazzo gli ho detto, vedi il tuo papà, cos'è che cercava, cos'è che cerca, il tuo papà lascia perdere quello che ha detto, lascia perdere come l'ha detto, il tuo papà sta cercando di essere presente nella tua vita, di continuare a sentirsi vivo, di avere un ruolo, di poterti manifestare che ti vuole bene, sta cercando la tua attenzione, il tuo affetto, dagliela, cosa serve che tu ti metti lì a disquisire sulle cose, sulle forme, sui contenuti, ma non è quello il problema, non guardare il dito, guarda la luna, guarda la luna, guarda dove il dito punta, quindi va all'incontro così, lui allora ha detto, sì sì va bene, e poi la sera mi chiama e mi dice, guarda padre Giorgio è bellissimo, è cambiato tutto, proprio oggi si è messo a ridere, era là che scherzava, mi parlava, mi diceva, vedete, la domanda radicale è, cosa cerchi? Da questa domanda dipende tutto il resto, mai scendere al livello della polemica, mai mettersi al livello della carnalità, sempre cercare comprendere la ragione profonda, l'origine, no? E questo vale sempre in ogni luogo, questo fa fare, ti fa fare veramente la parte del leone, la parte del saggio, la parte dell'uomo giusto, che si ferme e dice ma tutte queste parole, tutte queste cose brutte che vengono dette, da dove vengono? A cosa puntano? Cosa cercano? Cosa sta cercando? Magari, sapete, noi, soprattutto nel mondo degli affetti, no? Soprattutto nel mondo degli affetti, noi siamo tutti dei grandi affamati e assetati di amore, tutti, 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 noi tutti cerchiamo amore, noi cerchiamo di essere amati, noi abbiamo bisogno di sentirci voluti bene, di sentirci desiderati, cercati, stimati, stimati, rispettati e allora invece di dirlo, invece di dirlo ma con molte sincerità, no? Di riconoscere davanti all'altro quello che ho nel cuore e di dire io vorrei tanto avere la tua amicizia o vorrei tanto stare di più con te, vorrei tanto andare a bere una birra insieme, vorrei tanto andare a prendere un tè insieme, vorrei tanto andare al cinese insieme, vorrei tanto fare una passeggiata insieme, vorrei tanto stare un po' a chiacchierare con te, vorrei andare a mangiare un gelato insieme, vorrei abbracciarti, no? Vorrei abbracciarti, vorrei darti un bacio, vorrei farti una carezza, invece di dire le cose esattamente come nascono, che è la forma migliore, capite? La cosa migliore è proprio chiamare le cose col loro nome fin dalla loro nascita, se no diventano dei mostri dopo, eh? Lasciatevi un bambino che non ha nome, diventa un mostro, poverino. Invece di chiamare le cose col loro nome, noi le cammuffiamo perché abbiamo vergogna, abbiamo pudore di ciò che dovremmo invece essere gloriosamente fieri. E allora invece di far così cosa facciamo? Diventiamo invidiosi, diventiamo gelosi, diventiamo cattivi, c'è tutto il contrario. Quindi litighiamo, insultiamo, trattiamo male, rispondiamo male, perché noi sentiamo quei sentimenti, ma abbiamo la pretesa che l'altro li capisca da solo. Questa è la superbia più profonda e più fine, legata alla paura. Invece di dire all'altro quello che abbiamo nel cuore, noi pretendiamo che l'altro ce lo legga a lui e lo capisca da solo e lo applichi lui da solo. Ma questo non è giusto, non è giusto, proprio non è giusto. Non solo non è molto possibile, ma soprattutto non è giusto, perché io devo dare un nome a quello che ho dentro. È importantissimo saperlo nominare davanti al volto dell'altro. E allora sapere dire a una persona ti voglio bene, mi manchi, ho tanto desiderio di te. Perché? Perché se non facciamo così, dopo cominciamo a guardare in cagnesco le altre persone, dopo cominciamo a misurare i passi, cominciamo a misurare le distanze, cominciamo a misurare quello che uno fa, gli sguardi che uno dà e le cose. No, ma non è questa la strada. Anche lì, quando si sentono certe cose, la domanda è cosa stai cercando? E San Paolo ci dice cercate le cose di lassù. Ecco, questo è quanto mai importante. Cercate le cose di lassù. Dov'è Cristo? Seduto alla destra di Dio. Là dobbiamo puntare. Rivolgete il pensiero le cose di lassù, non a quelle della terra. Non perdete la vostra mente e ne avete una, una sola. Non sprecate i vostri pensieri per le cose terrene. Che oggi ci sono, domani non ci sono più. Quest'erbetta, io oggi la vedo, domani non ci sarà più, forse sarà morta. E così noi non perdete il tempo nelle cose che passano. Dedicatevi le cose serie, diceva Santa Teresa, dedicatevi le cose importanti, quelle che rimangono per sempre. Cos'è che rimane per sempre? L'amore. L'amore rimane per sempre, la carità rimane per sempre. Questa sola noi dovremmo cercare. Quante volte mi capitava in confessionale di dire alle persone che venivano a dire, ho calugnato tizio, diffamato Caio, ho trattato male mia mamma, ho fatto questo e quest'altro. Mi ricordo ancora un po' di anni fa a un giovane che venne a dire, ho detto una parolaccia a mia madre, l'ho trattata male. Ecco le campane, sentite? Adesso sì, che devono suonare. E ho trattato male mia mamma, l'ho risposto male, le ho detto una parolaccia. E vengo a confessarmi. Bene. Allora io gli dissi, gli dissi, le hai chiesto scusa. No. E viene chiede scusa a Dio e non chiede scusa a lei. Allora gli ho detto, guarda, facciamo così. Io ti assolvo, ma la penitenza che ti do è la seguente. Quando andrai a casa, appena vedrai la tua mamma, le farai una carezza, le darai un bel bacio e le dirai, mamma, ti voglio bene. Eh, ma no, ma come si fa? Guarda, è molto semplice. O lo fai o non ti assolvo. Punto. Perché? Perché la soluzione deve essere legata a una penitenza seria, non a ti do due avemarie. Questa è una cosa seria. Tu hai mancato contro il quarto comandamento in modo grave. È un peccato mortale. È un peccato gravissimo. Hai mancato di onore. Quindi tu adesso devi andare a riparare. E se non lo vuoi fare vuol dire che non sei veramente pentito e quindi non ha senso confessarsi. Alla fine ha accettato volentieri, ha accettato con gioia, ha capito, è andato e poi come sempre si torna vittoriosi, gioiosi, volando. È quel momento lì di abbraccio, di manifestazione, di risarcimento, di manifestazione del giusto, del bello è diventato un motivo. Perché un abbraccio non è mai solo un abbraccio, capite? Un bacio non è mai uno solo. Gli atti di amore vanno sempre in coppia. Perché l'amore si nutre di amore, no? E quindi non succede che tu dai un bacio e non ricevi un altro. È chiaro. Non succede che tu vedi davanti a una persona, gli dici delle cose vere, belle e questa persona non ti ricambia con le lacrime, con un abbraccio a sua volta, con un bacio, con una carezza, con un dono, con un sorriso, con tutte queste cose belle, no? Quindi poi ovviamente si cresce. È così che si cresce. È così che si diventa uomini. È così che si sconfigge la divisione. È così che si sconfigge l'opposizione uno all'altro. Noi abbiamo il diritto di esigere da chi ci governa l'unità. altro che i soldi, mica i soldi e... Ma va là, ma lasciate perdere. Lasciamo perdere. Non siamo morti in tempo di guerra. Abbiamo superato il tempo di guerra che per andare a prendere il pane, andavo a prendere il pane misto con la crusca, con la segatura per farlo pesare di più. Mangiavano una patata ogni venti giorni, immaginate chi ce l'aveva. La carne non sapeva neanche cosa fosse. C'erano neanche più i topi in giro. I gatti erano spariti. Sapete bene perché. E sono sopravvissuti. Noi stiamo qui a guardare le quisquiglie. I soldi, soldi, soldi. Sì, e poi viviamo nella divisione. Poi viviamo uno addosso, uno contro l'altro. Proprio la vigilia di Pasqua. Ma vedete il demonio com'è furbo? Vedete il demonio quando pone certe cose? Ha anche lui il suo calendario. Proprio esattamente nel Triduo Santo. Esattamente a ridosso della Pasqua. Chissà che bella Pasqua che faranno. Chissà che bella Pasqua che faranno loro e le loro famiglie con il cuore così stravolto, così tormentato, così nacidito, così tumefatto. Perché la divisione provoca i lividi, sapete? La divisione sono colpi. La divisione provoca i lividi, provoca dolori. Pensate in una famiglia. La mamma e il papà. Cosa c'è di più terribile che vedere due genitori che vanno uno addosso all'altro, uno contro l'altro? Due genitori che non si stimano, che non si amano, che non si sostengono. Cosa c'è di più diseducativo per un figlio? Di più alienante? A un ragazzo che è amato, che è conosciuto, che ha la possibilità di essere libero, libero di essere se stesso, non di fare quello che vuole, quando vuole, come vuole. No, non questo. Ma un ragazzo che è libero. È libero perché è sicuro. È sicuro perché sa che quell'amore dei suoi genitori non verrà mai meno. Qualunque cosa lui dica, qualunque cosa lui dovesse fare, qualunque cosa lui fosse, è libero. Può essere. Non cadrà mai nella droga. Non cadrà mai nell'alcol. Ma non gli viene neanche, ma non è una tentazione curiosista. E non gli viene, non ci riesce. Non gli viene. Perché ha il cuore talmente pieno di bellezza. Ha il cuore talmente pieno di gioia. Di appartenenza. Sa di appartenere a qualcuno. Quando tu appartieni a qualcuno. Quando tu sai che hai una casa, che hai un nido sicuro. Quando tu sai che c'hai un calore che ti attende, un rifugio. Ma non ti viene di andare a vivere con i corvi. Non ti viene di andare in giro con i ratti di notte. Non ti viene. Anzi, ne hai orrore. Ne hai paura. Il tuo gusto più grande qual è? Ma è quello di stare nella tua casa, con chi ti ama, di chiudere la porta, di creare quella separazione sana, santa e sacra tra l'interno della casa, tra l'interno del nido, tra l'interno del luogo d'amore e l'esterno. L'esterno che è fatto di non conosciuto, di indistinto, di qualunque. L'esterno che è fatto di improvvisazione. L'esterno che è fatto di buio. La notte, il momento più solenne, un po' il momento più delicato della giornata, della persona. Il ragazzo che si sente a casa, cosa desidera? Cosa cerca? Ma cerca il focolare. Ha gusto di quello. E sta bene lì. Non ha bisogno di andare a bere la birra e le patatine e sballare con dodici drink e andare a fare l'happy hour. Non gli interessa, non ha bisogno. Non ha bisogno. Non è un atto di escesi. Non c'è bisogno di disturbare Gesù. Non c'è bisogno di fare i moralisti. Non c'è bisogno di chiamare canti in gioco. No, non c'è bisogno. C'è bisogno semplicemente di stare dove si è. Perché si sta bene. Perché si è al proprio posto. E invece spesse volte le nostre case non sono così. Le nostre case sono delle SRL o delle SPA, dipende un po' da tipo a tipo. Le nostre case sono degli alberghi dove la cucina funziona sempre, dove si consuma. La nostra casa è un luogo di consumo. La nostra casa è un residence dove si ha un piede a terra, si lava, si stira, si pulisce, si butta l'umido, si cambia e si esce. E la casa diventa la strada. La strada è la casa. Una roba terrificante. Terrificante. La strada col suo freddo, col suo squallore, con la sua assenza di profumo. Voi averte notato che quando entrate in una casa, ogni casa ha il suo odore. Io lo chiamo profumo. Anche quando è un po' acido, io lo chiamo profumo. Perché è proprio il suo odore. Ogni casa ha il suo odore. Come entri in una casa, tu senti l'odore di quella casa. E se tu giri in tutto il mondo, tu non troverai un'altra casa che abbia quell'odore. Non esiste. Non esiste un altro appartamento che abbia quel profumo. Non esiste. Pensate quanto è vero che stanotte mi sono alzato per andare in bagno e nell'attraversare una porta, un corridoio, non so perché, ho sentito un profumo che, immaginatevi di notte, uno mezzo stordito, con la bolla al naso, no? Così. Quel profumo istantaneamente. Sapete cosa mi ha fatto venire in mente? I giorni dell'asilo. Quando andavo all'asilo. Cioè, capite? Questo vuol dire 40 anni fa, eh? Ma quell'istante, in questo tutto, quel profumo lì preciso, non so che cosa l'abbia creato, a me è venuto in mente l'asilo. Ho rivisto proprio la scena di io piccolino nell'asilo in un momento preciso di quando ero lì nell'asilo che andavo a riposare. Un flash. Pensate un profumo che cosa è capace di fare. Perché l'odore si lega alla persona, si lega all'ambiente. La strada. La strada non ha odore. È come il carcere. Non c'è un odore in carcere. Non c'è il profumo. No. Tu in carcere non senti niente. Non senti un odore. Ne senti tutti insieme nessuno. Uno, nessuno e centomila. Così proprio. In strada. Che odore senti? Il cemento. In strada non c'è un odore che contraddistingue. No. In strada è tutto uguale. È terribile. Guardate, è alienante, eh? Questa cosa è alienante. Alienante. Proprio destrutturante. Scava dei solchi profondissimi nella carne e nell'anima delle persone. È un po' la differenza che c'è tra un cane randagio e un bel cagnolone, no? Bello curato, no? Bello pettinato, bello pulito, che ha la sua cuccia, che ha la sua ciotola con sul suo nome, che ha la sua copertina, che ha la sua casa, che ha i bimbi che vanno lì a giocare con lui e fuori cercano l'andagio, che girano, con l'occhio spento, con l'occhio che non sa dove guarda, fuggitivo, spulcioso, sporco. Nessuno gli fa mai una carezza. Per questo noi, in questo giorno di Pasqua, dobbiamo avere il pensiero là. Il pensiero là. Il pensiero in Dio. Voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Che bella questa espressione. noi siamo morti e la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Vero, vero, verissimo. Sentirci proprio nascosti lì. Nascosti nel seno del Padre. Bello. Con Gesù e lo Spirito Santo. Lì. Sentirci morti, no? A questo mondo di tenebra e aperti al mondo come creato, come voluto da Dio. Ma questa bellissima erbetta verde, fresca, piena di rugiada del mattino. E l'altra opzione della lettura era quella di San Paolo Apostolo e Corinti. Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova. Bello. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Via quel lievito lì. Per essere pasta nuova, poiché siete azimi. Cristo, il nostro Pasqua è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, con il lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e verità. Celebriamo la festa con azimi di sincerità e verità. Via la malizia, via la perversità. Non si può far festa così. E infatti ve lo dicevo prima. Chissà le persone che vivono dentro a queste liti, a queste opposizioni, uno contro l'altro, a queste accuse reciproche. Chissà che bella Pasqua che faranno oggi. Oggi per loro il sole è sorto. Oggi sentono il calore di questo sole meraviglioso. Sentono la sintonia interiore di questa erbetta fresca. Sentono la bellezza del coniglietto che salta. No, non si può sentire. Non si può sentire. Perché il cuore è pesantito o tenebrato. Il cuore è rapito dai livori, dalla malizia e dalla perversità. Dalla malizia e dalla perversità. E si inizia, adesso si inizierà, vedrete, la giostra delle repliche. Perché adesso ho diritto di replicare. E poi quell'altro avrà il diritto anche di replicare. E poi quell'altro avrà il diritto di... E adesso si inizia la giostra del tu devi, io però ho fatto, però io intendevo. Ma cosa ci interessa? Ma cosa ci interessa? Io di proposito non lo guarderò. Non ascolterò nessuno. Nessuno. Di proposito proprio. Perché non... No, non mi interessa. Non voglio mischiare il mio cuore dentro a queste stupidaggini proprio. A queste... A queste... A queste giostre che alla fine ti fa venire la nausea e tanto girano. No, 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 no. No, noi dobbiamo cercare la sincerità e la verità. Sono un po' come quelli che attaccano sempre il Papa, che attaccano sempre la Chiesa, che attaccano sempre i tizio e Caio Sempronio. No, no, guardate. No, no, non si può fare Pasqua col cuore avvelenato. Non è possibile. Non si può. Io non so come come si possa... Come si possa celebrare le sue lezioni di Gesù avendo il cuore che si parla sempre male di qualcuno. Ma no, ma basta. Ma basta, ma basta. Ma non possiamo pensare che... Perché non possiamo pensare? Che tutti si sta cercando il bene. Che stiamo cercando il bene. Lasciamo perdere il bene di tutti. Lasciamo perdere il colore, non mica il colore e l'ideologia. Ma lasciamo le perdere, queste cose. Ma cerchiamo il bene comune. Cerchiamo il bene della famiglia. Il bene dei nostri figli. È un bene vederci litigare. È un bene vederci dividere. È un bene vederci avere l'amante. È un bene vederci attaccare, insultare. È un bene vederci urlare, vederci sbavare in televisione, vederci... Non so che... Ma non è un bene questa cosa qui. Non è un bene. Non è un bene. Questo non è un bene. Questo serve a me, direbbe San Giovanni Bosco. Serve alla mia concupiscenza che non si sa gestire. A questo serve. Ma non è un bene. Dobbiamo arrabbiarci? Dobbiamo arrabbiarci. Dobbiamo vivere la Santa Iria di San Giovanni Crisostomo. Benissimo, viviamola. Ma viviamola per la verità. Per Dio. Allora va bene. Viviamola per Dio. Difendiamo la causa di Dio. Difendiamo le cose di Dio. Con la Santa Iria di San Giovanni Crisostomo. Nella quale già vi parlai, vi lessi quel testo bellissimo di San Giovanni Crisostomo sulla Santa Iria. Viviamola per quello. Allora va bene. Per realizzare la verità. Il bene in assoluto. Allora dobbiamo vivere la Santa Iria quando questo bene viene tristemente tradito. Ma se no, altrimenti non serve. Ma non serve. Ma non litigate. Ma non litighiamo. Ma non mettiamoci a fare i divisori. Su che cosa? Su che cosa? E per che cosa? Facciamo la festa con sincerità e verità. Facciamo festa con sincerità e verità. Che sia veramente una festa. Una festa dove il nostro cuore mangia anche lui la colomba. Ecco. No, avrete preso la vostra colomba. Vi avevano regalato una colombina. L'avrete tenuta lì. Io l'ho messa lì. Incartata. Tutta bella. La contemplo dall'esterno. Ed è un po' che l'alumo che sto lì a guardare e a dire mamma chissà com'è buona questa colombina. E oggi l'aprirò. aprirò questa colombina. E io spero tanto che anche il mio cuore la mangi. Anche il mio cuore dica sì Giorgio ci siamo. Va bene. Facciamo festa. Tutto. 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 Tutto Giorgio fa festa. Cuore e corpo. Mangiamo sta colombina e con con la con la pace dell'anima. Con la gioia nell'anima. Con la fiducia. La speranza in Dio. Con l'affidamento in Dio. Certo. Tante sono le preoccupazioni. Tante sono le perplessità. E non solo quelle legate al virus. Sono tante altre. Tanti sono i pensieri per tante persone. Tante sono le situazioni complicate. Vero? Ecco. Però guardate. In questo istante. Ho alzato la testa. Cosa ho visto? Incredibile. Come il Signore ci parla anche attraverso dei piccoli segni. Ho alzato la testa. In questo cielo tersissimo. Ormai il sole è salito. Vedo un aereo che si sta dirigendo proprio fisso al sole. Cioè sta andando proprio nella direzione del sole. Non posso guardare il sole se no mi acceco. Mi viene in glaucoma. Ma l'aereo sì. E vedo questo aereo che va dritto, dritto, dritto. Come se fosse un'anima che sale dritta verso Dio. Non va a destra, a sinistra, da un'altra parte, in una direzione opposta. No. Dritto si sta dirigendo verso il sole. Ecco. Mi viene da dire che la mia anima possa dire sì. Mangia la tua colombina e continuiamo il nostro percorso dritti verso il sole. Dritti. Senza distrazioni. Senza deviazioni. Una linea retta. Un vettore. Quella direzione e quel verso. Conta poco avere quella direzione e non avere lo stesso verso. Noi dobbiamo andare in quel verso lì. Quel verso, quella direzione. Quella traiettoria. Dritti verso il sole. Dritti verso Dio. Dritti. Senza distrarci. Senza dedicarci ad altro. E allora sì che sarà una vera Pasqua. Allora sì che vivremo bene la Divina Misericordia. Allora sì che... E allora sì che la nostra vita sarà gioiosa anche se avremo poco. Anche se avremo poco. Che poi noi non abbiamo poco. Perché ne abbiamo tantissimo. Tantissimo. Abbiamo tantissimo nella nostra vita. Sincerità e verità. Facciamo sincerità e facciamo verità. E facciamo gli auguri di Pasqua eh. Mi raccomando. Ricordiamoci di fare gli auguri di Pasqua a tutte le persone che conosciamo, che ci fanno del bene, a tutte le persone che ci vogliono bene e anche a quelle che, ma non lo so, magari, sapete, sono un po' più... un po' più affaticati, diciamo così. Che bello se oggi i nostri governanti andassero alla televisione e dicessero io sono venuto qui per augurarti Buona Pasqua. al loro nemico, diciamo così, al loro opposto. Voglio augurarti Buona Pasqua. Se ho sbagliato dove ho sbagliato chiedo scusa e ripartiamo. Capita a tutti di scivolare sul ghiaccio, capita a tutti di scivolarci prima, di scivolarci dopo. Questo non ha importanza. Ma voglio augurarti Buona Pasqua. E se sappiamo che abbiamo fatto qualche pasticcetto, se sappiamo che abbiamo sbagliato in qualcosa, dobbiamo essere noi a fare il primo passo eh. Dobbiamo essere noi a fare il primo passo. Costa. Ma questa è la risurrezione. Questo vuol dire abbandonare il sepolcro. Questo vuol dire muovere la pietra. Questo vuol dire uscire. Uscire. Questo vuol dire. questo vuol dire lasciare le persone stupefatte. Come Maria di Magda che arriva là al mattino presto. Al mattino presto. Quando era ancora buio. Che bello, no? Fatelo in questo tempo. Questa settimana che ci separa dalla domenica di Dina Misericordia. Ecco, fatelo. Facciamolo. provate una volta a muovervi al mattino presto. Presto, presto. Quando è buio. Quando è buio. Quando c'è la luna. Oggi sono, quando sono tornato poi nel mio letto, ho guardato fuori dopo quella piccola peregrinazzo che vi ho detto. Ho guardato, ho tratto su bene Tapparello, ho guardato fuori che mi fece dormire con la luce, vedere la luce. Ho guardato fuori e dalla tenda vedevo una luce e dicevo, ma che luce sarà? E allora ho guardato bene, era la luna. Una bellissima luna c'era stanotte. E allora mi sono rimesso nel letto e ho detto, pensa Giorgio, che grazia. Dormi cullato dai raggi della luna. Dormi sotto lo sguardo della luna. È come non pensare alla Vergine Maria. La nostra luna. No? Il sole è Cristo. Ecco, l'aereo non c'è più. Si è perso nel sole. Come noi. La luna è la Vergine Maria e Gesù è il sole. Ecco, allora anche, anche quando dormiamo, vedete, abbiamo l'occasione di poter pensare al cielo e di sentirci protetti, di sentirci avvolti, dalla Madonna di notte e da Gesù di giorno, no? In queste due immagini molto belle che i padri della Chiesa ci hanno consegnato. E allora appunto dicevo, se c'è qualcosa che abbiamo in sospeso, auguriamo Buona Pasqua. Ma non col messaggino, eh. Vi prego, non col messaggino. Vi supplico, non fatelo col messaggino. Vi prego, non mandate poi, non mandate auguri di Buona Pasqua con sopra scritto inoltrato. Vi prego, non fatelo, non fatelo, non fatelo. Vi prego. È di una tristezza da paura. Inoltre, inoltre, c'è questo messaggino dell'augurio di Buona Pasqua che raggiunge centomila persone sempre quello. Neanche scriviamo noi per risparmiare di dover battere col dito tanti auguri di Buona Pasqua che pare essere un ragionamento molto profondo, una frase molto profonda, no? Tanto difficile da fare. Non è che dobbiamo scrivere in latino, in greco, in italiano, no? Tanti auguri di Buona Pasqua, ma è complessa. E allora che cosa fanno? Prendono queste immaginette tristissime che sono tutte tristissime. La colombina, adesso va di modo il coniglietto che non c'entra niente il coniglietto con la Pasqua, niente. A posto di avere l'agnello, l'agnello di cioccolato, l'agnello di marzapanna, tutti fanno il coniglio. Cosa diavolo c'entra il coniglio con la Pasqua? Niente. Non c'entra niente. Il coniglio con la Pasqua non c'entra niente. C'entra l'agnello. Questo c'entra. È l'agnello il simbolo della Pasqua, non il coniglio. Il coniglio non c'entra nulla. Il coniglio di cioccolato. Il coniglio di cioccolato non c'entra niente con la Pasqua. Ma noi siamo credibili. Comunque. Ecco, cerchiamo di mandare un bel augurio, ma non un messaggino, non un inoltro. Non buona Pasqua. È come quelli che mandano la cartolina dal mare. Saluti. Vabbè, poi anche non mandarla. No, vabbè. Comunque. Chiamiamo. Prendiamo sto benedetto telefono che stiamo sempre con in mano il telefono la mattina e la sera. Chiamiamo. Chiamiamo. E diciamo. Buona Pasqua. Auguri. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Cosa interessa a me è vedere che su WhatsApp c'ho 50 messaggi con scritto buona Pasqua, buona Pasqua, buona Pasqua, buona Pasqua. E io grazie, 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 grazie. È un peso. È una fatica inutile. Non serve a niente. E invece una telefonata è sempre bella. Ma non è che deve stare i tre ore, eh. Ma no, una telefonata dove si augura buona Pasqua, dove ci si saluta, dove... dove si fa capire all'altra persona che stai pensando a lei. Ecco. Vi concludo con questo piccolo aneddoto della mia vita. Alla fine di queste meditazioni credo che saprete più voi di me che non io di me stesso. Vabbè, comunque. Un aneddoto del piccolino della mia vita, del Giorgio, del Giorgio bambino. Quando ero piccolo, la domenica mattina ovviamente andavo alla messa e quindi mi svegliavo e cominciavo a preparare le mie cose. e allora la mia mamma, prima che io mi muovessi per andare alla messa, veniva e mi diceva Giorgio, non ti stai dimenticando qualcosa? Dicevo no, no, ho messo le scarpe. Poi mettevo fuori l'abito bello perché la domenica a noi era sacro con l'abito, con la bellissima giacchina marinaretta, con i bottoncini placati in oro, no, che tanto mi piaceva. Pantalone nero, bello, lungo la camicia, con la cravatta. Ci mancava che uno andasse in chiesa senza essere tirato a piombo, senza cravatta. Non potevo uscire neanche quando ero bambino per andare a messa. E allora tiravo fuori tutte le mie belle, la mia cravatta, tutte le mie camicine, le mie cosine, mi preparavo. Dicevo no, non dimenticate. Le scarpe moccassino nero, lucidate, come se fossi un Marines. No, no, non hai dimenticato niente. No, Giorgio, stai dimenticando qualcosa. Ma no, ma che cosa? Ma no, ma no, ma no, ma no. Io quasi ero pronto e mi diceva la mia mamma, Giorgio, non hai ancora chiamato la nonna. Non le auguri buona domenica? Mica dici che le vuoi così tanto bene? E tu esci di casa senza neanche salutarla. E io dico, oh mamma, è vero. Che somaro. Allora prendi il telefono, la chiamavo, lei è tutta contenta. Dopo le preghiere del mattino questa doveva essere la priorità che dovevo imparare. salutare, chiamando la persona che io dicevo di amare. E allora la mia mamma mi insegnava quanto era fondamentale, no? Quanto era essenziale. Il legame tra il dire, l'idea e il fare. Se tu dici di amare, tu devi amare concretamente, nelle opere. Devi assumerti la responsabilità della tua idea. Tu dici di amare, allora ama. Non puoi dire, no, ma io ti penso. No, lo fai. Tutto il resto viene dopo. La tua camicia bella, la tua cravatta, il tuo pantalone, la tua giacchina con i bottoncini d'oro. Quello viene tutto dopo. Che a te ti piacciono quelle cose lì? Sì. Ma non sono la priorità. La priorità è essere costante nell'amare. La priorità è amare. La priorità è far sentire l'altro amato. La priorità è dare alla persona amata il suo posto, il primo. Dopo vai, fai tutte le tue cose. Ecco, allora io vi auguro una santa Pasqua. Vi auguro una Pasqua coraggiosa. Una Pasqua coraggiosa. Una Pasqua audace, forte. Una bella Pasqua dove prendete e anche se siete fermi in casa oggi fatevi presenti nella vita delle persone che vi amano e che amate. E godete questo giorno, godete questo bel sole. Spero che ci sarà anche dove siete voi. E sappiatevi tutti ricordati all'altare. Oggi alla Messa vi ho ricordato tutti. Tutti benedetti. E se Dio vorrà ci risentiremo domani, che è lunedì dell'angelo, e vedremo se il Signore, come vi ho detto non guardo le previsioni, quindi non lo so, ma vedremo se il Signore ci concederà ancora questo bel sole. Intanto godiamolo oggi in tutta la sua estensione, la sua bellezza. Di cuore a tutti, buona Pasqua. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Alleluia, alleluia.